La gara è il Gran Premio del Messico, il campionato della Master League. Amici di Formula Italian Team, buonasera e virtualmente benvenuti sull'autodromo Hermanos Rodríguez. Per quanto riguarda le sostituzioni, troviamo Reial in Red Bull con Fleming in Alfa Ramosauber. Si mette davanti a tutti in questo momento F1 Italian Mets in un primo 13 secondi e 482 millesimi. Sì, tutti con Iper lì davanti. Entrambe le scelte di mescola potrebbero essere validi anche per la gara. Occhio Smokeman che vorrà sicuramente finire in crescendo e continuare a far bene come ha fatto fino adesso in questa stagione. Vediamo come va a passare sul traguardo del pole position. 1'13 e 324 di Smokeman. È un grandissimo giro con la ultra da Fab che ha un tentativo secco. Due millesimi leggermente più lento di Smokeman. Andiamo a vedere se riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro. La Fab sul traguardo. Come va a chiudere del pole position. 1'13 e 105. Mamma che D3 ha fatto. Ti ha dato tre decimi tutti nello stadio. 18-801 per Smoke e 18-550 per Fab. Intanto si stanno migliorando i due Mercedes. È in linea Mauro. Eccolo. È ecco Mauro. 13-0. Con la Iper sembra di vedere la qualificata. Austin però la scelta strategica potrebbe di nuovo rendere tutto più divertente. Vediamo un Mets. Che lui si sta migliorando. Taccale intanto la bandiera a scacchie. Concludono Smokeman e Danix che rientrano in box. Vediamo più come chiude Mets che resta in quarta posizione. Per la prima volta in stagione a scattare dalla pole position. Fit e Mauro Golda al suo fianco. Isfab 13x. La seconda fila con Smokeman. E l'altra Mercedes. Quella di Mets. Quindi Savastan e Danix. Quarta fila con Luca D'Amico e Di Legge. Quinta fila con J-Sport e la Y-Card Luca Fleming. In sesta fila aperta dalla Ferrari di Magic affiancato da Cro numero 1. Settima fila per Dovi Power e Rayel. Variegata la strategia delle gomme. Hypersoft per Mauro Golda. Mets, Savastan, Danix, Fleming. Supersoft per Magic. E gli altri tutti con gomma Ultrasoft. Lo schieramento di partenza si sta andando a comporre. E adesso occhio agli luci che si vanno ad accendere. Due, tre, quattro, cinque. Prima dentro. Sui motori. E andiamo. Parte il Gran Premio del Messico categoria Master League. E' buono lo scatto di Mauro Golda. Altrettanto buono lo scatto di Fab. Che potrebbe subito provare ad insediare la prima posizione. Vediamo chi la spunta alla prima curva. Fanno in free wide. Tiene l'interno Mauro Golda. Occhio. Ingresso molto molto garibaldino di Mets. Che va side by side con X-Fab. Occhio perché adesso Mets potrebbe riprendere la scia. Paule riesce a difendere l'interno. Occhio a Mets. Occhio dietro anche alla Red Bull. Di Danix si butta dentro. Mets che però adesso avrà lo sfavore della traiettoria più esterna. Non potrà provare a rispondere all'attacco. Occhio dietro. Di Danix che si porta dietro. Smoke anche in questo momento. Si butta dentro. Savatanei con fronti di Danix. Un po' più lontano Luca D'Amico. Tanto Smokeman ha passato Mauro. Si è attivato il prima possibile. Occhio Danix. Occhio a Luca D'Amico. Savatanei potrebbe trovarsi a panino. Reijan ha fatto un grandissimo attraverso la trea. Ha sfiorato le barriere. Intanto di nuovo è Box Mauro. Questa volta Ultra. Ha i Box Smokeman che va a montare gomme Ultra Soft. Si è fermato anche Fab. Si sono fermati allo stesso giro. È una costante di questa stagione. Con la gomma Raguletti intermedia di quelle portate alla Pirelli. Lavora meglio Smokeman che è da 6.5 prima della sosta. Adesso è passato a 5.3. Comunque mantiene abbastanza stabile il distacco. Ecco. E' un'aiperavidì costante. Rappelli in questa stagione purtroppo. D'Amico su Savatane alla staccata di curva 1. Si butta dentro il pilota Renault. E attenzione a Luca D'Amico che svernicia completamente Danix. Non è lontano Metz. E D'Amico ha preso anche Metz. Con il pilota della Renault che si prende il podio assolutamente virtuale. Danix ancora con la Ultra Soft. Si. Che intanto dilegge su Savatane. Solito punto. Solito copione. Mentre occhio anche Mauro su Savatane. Savatane sta vedendo l'avversario spuntare da ogni dove. No. Uh attenzione. Attenzione. Infatti. Fab disconnesso. Andiamo avanti perché in questo momento Smokeman si prende la testa della corsa. In teoria Fab ora dovrebbe riprendere il controllo della vettura senza troppe difficoltà. Si fisica in questo momento la vettura. Ehi. Quanti ai box di legge dove i Magic tutti insieme. E allora. Di legge. E si. Dove va ora con l'Hyper. Tanto ai box forse Smokeman poi che l'ho visto rallentare. Infatti fa lo stesso Fab. Si marcano. Magic. Di cui sente profumo. Di legge. Fab. Che punta al materiale testa della corsa. Si butta dentro. E si prende la posizione. Caspita però è partito da casa sua con i DRS a prendere la scia. Magic credo non sia molto d'accordo sul lasciare la quinta posizione a di legge. Tira una staccatona di legge micidiale. Stoccata. Controstoccata. Ritenta l'incrocio. Magic che ha il favore della traiettoria più interna. Occhio qui Magic che va largo. E allora si dibutta dentro di legge. Si dibutta dentro di legge alla 6. E si riprende la quinta posizione. Occhio ancora Magic sul rettilineo principale. La mossa è la consueta. DRS staccata a curva 1. Con Fab. Come sempre si guarda gli specchietti. Vede che non c'è nessuno. E allora tutto tranquillo. Può andare a basare sulla bandiera scacchi. XFab 3GX vince. Il Gran Premio del Messico. Categoria Master League. Secondo gradino del podio per Smokeman. Sta arrivando Luca D'Amico. Si va a prendere il terzo gradino del podio. La quarta posizione di Mauro Gold. Supra avanzato per le penaltà da Magic. Uh di legge. Di legge fuori. Clamoroso.